Si è tenuta nella Sala della Protezione Civile della Prefettura di Caltanissetta una riunione della Conferenza Provinciale Permanente per effettuare un primo monitoraggio sulla situazione dell'edilizia scolastica nel territorio provinciale, si legge in una nota. Si vuole avviare un progetto mirato a ricercare soluzioni condivise per le problematiche connesse al tema che più in generale attiene alla questione della tutela dell'incolumità e della sicurezza della popolazione scolastica. All'incontro presieduto dal prefetto Chiara Armenia hanno partecipato il deputato regionale Giuseppe Catania, diversi rappresentanti di comuni, centri in cui hanno sede istituti di scuola secondaria superiore, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Filippo Ciancio e dirigenti del Libero Consorzio Comunale. Su input del prefetto sono state tracciate le linee guida per semplificare le procedure da attivare per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La strategia operativa emersa durante l'incontro è stata colta con grande soddisfazione dai partecipanti. Al termine della riunione il prefetto, considerata la complessità e l'ampiezza della tematica, ha aggiornato i lavori della conferenza provinciale permanente a nuovi e successivi incontri con cadenza mensile per approntare ulteriori soluzioni adeguate a fronteggiare le variegate criticità che attengono al delicato tema dell'edilizia scolastica.